Dal 1 gennaio, biglietti e abbonamenti ferroviari più cari in Sicilia. Secondo quanto asserito dal Comitato Pendolari, l'incremento delle tariffe sarà pari al 7,7% nell'arco di un anno. Quest'aumento per gli abbonati significherà mediamente circa 70-80 euro in più rispetto al costo affrontato quest'anno. Il Presidente del Comitato Pendolari Siciliani, Giosuè Malaponti, ricorda l'impegno che Regione Sicilia e Trenitalia avevano assunto nello scorso mese di giugno e che prevedeva un aumento tariffario a partire dal 1 gennaio 2017. A tutt'oggi, dichiara Malaponti, il contratto di servizio per il trasporto ferroviario non è stato ancora firmato, ma, aggiunge, gli aumenti sono già operativi per chi acquista gli abbonamenti da gennaio 2016, nonostante quello che era stato previsto e sottoscritto nell'intesa di giugno. Da come si evince, l'abbonamento mensile di gennaio 2016 ha un costo di 74,40 centesimi di euro, mentre quello di dicembre 2015 ha avuto un costo di 69 euro. Con il nuovo anno si registrerà mediamente un incremento di oltre 5 euro ad abbonamento mensile.